... ... ... ... ... ... ... Una grande storia per restare piccoli, eternamente giovani. Sono hard. Sono soft. Funziona tutto. Non funzionerà mai. Questi dovrebbero essere dei geni. Collegando il generatore del raggio di trasferimento sullo stereo potenziato dell'auto di furio. Allora intesi? Sì, intesi. Al mio via tutti di corsa verso l'albero. Giacomo.